Ciao a tutti ragazzi sono Yaki Dale e oggi siamo qui finalmente tornati in un nuovo episodio della serie di Minecraft Pocket Edition è notte quindi sarebbe anche meglio andare a dormire, lo facciamo subitissimo fatto sta che siamo qui dopo tanto tempo perché per una serie di ragioni non sono riuscito a registrare video di Minecraft diciamo che ritorniamo con il botto perché? perché andremo a completare un progetto che ho in mente da tanto tempo e uno di questi qui che ci sta esattamente puntando, quindi un creeper che adesso è morto sarà tra i protagonisti di questo progetto perché con questa spada con looting in questi giorni ragazzi ho raccattato veramente tanta ma tanta ma tanta TNT o meglio tanta polvere da sparo che adesso trasformiamo subitissimo in TNT quindi possiamo farne altri 26 in questo modo, perfetto non mi ricordo in realtà se ho altra polvere da sparo però a cosa ci serve tutta questa TNT allora la polvere da sparo l'avevo messa qua se c'era... oh un altro stack, molto bene tra l'altro calcolate che per andare in giro l'armatura purtroppo ha fatto capuff ho dovuto anche metter via l'elitra, l'ho riparata con questa bellissima nuovissima incudine per il momento ci accontentiamo dell'armatura in ferro, tra l'altro c'è stato l'aggiornamento hanno aggiunto tantissime cose però sinceramente non ho guardato ci sono tantissimi nuovi materiali, tantissime nuove cose che prossimamente faremo fatto sta che ok la polvere da sparo ce l'abbiamo quindi non chiedetemi perché sto usando questa però facciamo anche l'altra TNT allora diciamo che una cosa di questo genere avevo già tentato di farla e probabilmente molti di voi se la ricorderanno però il risultato alla fine della fiera non è che mi abbia convinto troppo comunque volevo un acciarino oh ne abbiamo addirittura uno nuovo molto bene, molto bene per tutti quelli che non mi seguono da tanto tempo comunque adesso vi faccio vedere qual era stato il tentativo perché oggi cercheremo di fare una cosa molto ma molto più bella speriamo, tra l'altro il fidget spinner l'ho completato sono contento che il video del fidget spinner vi è piaciuto molto e spero che anche questo vi possa piacere intanto mangiamo un po' di cocomero perfetto che ragazzi cioè il cocomero è la vita è la fonte di energia del futuro tra l'altro ragazzi qui che era tutto terra non so come mai è nata dell'erba a caso quindi dovrò mettermi lì e sostituire tutto di nuovo e sarà particolarmente complicato comunque avete capito che il buco che noi avevamo fatto con la TNT era questo qui solo che siccome avevamo poca TNT ne avevamo messa una ogni due blocchi se non sbaglio di conseguenza il risultato era una roba un po' troppo diciamo regolare effettivamente questo qui sembra un buco un po' scavato a mano ecco quello che tenteremo di ottenere oggi con il botto per l'appunto sarà un cratere molto molto più irregolare però quindi con tutte le asperità in giro in giro che poi all'interno si potrà regolare nel senso si potranno costruire cose e quindi non necessariamente serve che arrivi fino alla lava per farci capire il punto è dove lo costruiamo io pensavo di costruirlo a dire la verità abbastanza al centro del mondo considerando che però sotto di noi ci sono altre costruzioni tra cui tutti i tunnel della miniera così e cosà di conseguenza cercando di stare attenti a quello che c'è sotto ma non dovrebbe essere troppo un problema vediamo dove possiamo fare la nostra cosa allora potrebbe essere interessante farlo anche solo qui però qui risulterebbe un po' defilato e secondo me non avrebbe neanche troppo senso allora dove lo possiamo fare? ve lo dice il povero caro e vecchio Yaki in realtà non lo so neanch'io eh sto esplorando a caso e spero che qualcuno mi dia un suggerimento però la vedo dura la vedo molto dura quindi 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 si è capito ben poco di quello che voglio fare no scherzavo penso che lo possiamo fare qui il nostro cratere perché sicuramente qua sotto non c'è niente e poi boh può avere un senso non lo so allora ragioniamolo un attimo eh perché se il castello da qui vuole in un futuro avere una strada di collegamento la strada può fare una cosa di questo genere quindi andare qua giù 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 permesso albero e ricollegarsi in qualche modo lì quindi passando per di qua sostanzialmente ok sinceramente io se dovessi fare un cratere ora come ora lo farei qua così si vede da lassù si vede da un po' tutto il mondo e vediamo un po' come può avvenire allora dobbiamo sicuramente iniziare a scavare ragazzi mai scavarsi sotto i piedi quindi noi facciamo una cosa di questo tipo uno e due e adesso andiamo col nostro piccone di diamante o quello che rimane del piccone di diamante purtroppo diciamo che i nostri mezzi stanno scarseggiando comunque qua c'è del ferro e io il ferro sinceramente lo raccolgo perché ci serve calcolate che ne ho pochissimo anzi forse non ne ho quindi buonissima cosa e cosa dobbiamo fare ragazzi? dobbiamo andare giù di circa una settantina di blocchi ecco abbiamo già trovato dell'acqua dobbiamo far subito l'acqua potrebbe essere un problema ragazzi eh perché l'acqua come ben sapete non fa esplodere la TNT ed è veramente fastidioso da questo punto di vista quindi dobbiamo tappare quello che riusciamo a tappare in questo modo già dovrebbe andare bene comunque abbiamo scavato circa 20 blocchi possiamo continuare ad andare giù 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 oddio si è bagato tutto per un secondo ragazzi pazzesco la peppa ho centrato proprio un tunnel di quelli che ho fatto con la miniera quindi qua siamo a livello già basso ragazzi eh sì perché siamo alla bedrock va bene dai vediamo cosa succede io metto la TNT dovrebbero bastare questi 70 blocchi eh perché alla fine della fiera non abbiamo scavato tantissimo quindi forse addirittura abbiamo TNT che ci avanza per assurdo però noi senza nessun tipo di fretta facciamo tutta questa cosa ci vorrebbe dell'acqua addirittura cioè nel senso un secchiello perché poi non ho idea di come possiamo scendere però intanto iniziamo a fare così considerando che siamo già a buon punto e siamo stati anche abbastanza precisi con i materiali perché siamo su 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 lì c'è uno scheletro c'è un ragno c'è un po' troppa gente per i miei gusti quindi procediamo uccidendo tutti e ragazzi sperando che non crashi tutto quanto ciao pecora ciao aspetta no mettiamola più vicina dai dai vieni 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 lei si sacrificherà per il cratere no dai poverina andiamo siete pronti? cioè questo qui sì che è un bel bot ragazzi 3 2 1 devo scappare devo scappare devo scappare devo scappare speriamo non crashi tutto quanto ok ok sta già succedendo troppo casino la pecora poverina è morta sta laggando tutto il cratere effettivamente da sopra si vede siete pronti? vediamo cosa è successo ho una terribile paura di cadere ragazzi oh c'è l'acqua ci sta ragazzi ci sta e come è molto 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 più bello dell'altro vediamo se riesco ad affacciarmi ok l'acqua alla fine è diciamo uscita comunque se noi proviamo a buttarci vediamo cosa succede sta laggando tutto ok ragazzi probabilmente ci sono tipo troppi troppi in giro e vorrei evitare di fare cavolate non morire yaki cosa sta succedendo ok forse non è stata un'idea geniale la tipo la redstone si è buggata completamente però guardate qua che cratere qua basta regolarizzare un po' quest'acqua di sicuro perché così fa schifo mettere magari qualche fontanella di lava e viene un effetto che è tanta ma tanta tanta roba secondo me quindi dai vediamo di raccogliere i materiali che riusciamo a raccogliere un po' di redstone che non ci fa male ma non capisco perché laghi così tanto dove c'è l'acqua alla fine non è tantissima acqua quindi ovviamente morire che per caso troviamo dei diamanti e non sia mai prendiamo solo il ferro per sicurezza che come vi ho detto prima in futuro sicuramente ci servirà e detto questo quindi per questo episodio col botto era tutto io spero che vi sia piaciuto qua ragazzi non capisco veramente perché stia laggando così tanto quindi evidentemente è un segno che devo concludere l'episodio mi raccomando seguitemi su instagram anche se so già che non mi seguirete perché siete cattivi no dai scherzo fatelo dove sono finito e niente ragazzi noi ci vediamo nel prossimo video